ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi giocheremo a Vlad e Niki trova le differenze dei 12 lucchetti ed ecco qua oggi giocheremo al puzzle dei gatti e dei cani degli animali in genere inizio siamo al salone per animali guarda questi cuccioli dolcissimi ma perché questo cucciolo è in gabbia Niki non lo so aiutiamolo a liberarsi ma è impazzito è indemoniato il cane un cagnolino tutto matto ma è spiderman non ho mai visto un cane che si arrampica alle pareti va bene ok dobbiamo trovare tutti tutte le chiavi per questi lucchetti qui c'è un bullone iniziamo a prendere poi questo cane ha tanto pelo penso che bisogna essere tagliato questo cagnolino a terra toccalo un po' a vedi un gioco deve prendere tipo 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 il serpente sneaker snack come si chiama il gioco del serpentino sette sei a non farlo toccare per poco per poco mamma mi è diventato gigante gli ultimi tre dai 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 tre due no no vabbè il gattino la bambina non fa niente il puzzle cerchiamo di completare questo puzzle qua dobbiamo girare così sì così un cane col papillon e c'è anche il cilindro c'è anche il calice divino è elegante certo ed ecco qui la prima chiave poi o mio dio no forse devi associare simbolo con simbolo sotto ossa pettinino e stetoscopio poi forbici pallina crocchette giochino per far giocare gattini altro giochino pesciolino altro pesciolino topino croccantini palla e palla ok altra chiave proseguiamo un cane tutto zuzzo si deve lavare ovviamente strofinalo un po no si chiude l'acqua perché l'osso terra un pettine vedi quelle frecce colorate queste si sopra niente oppla allora l'osso la spugna la spugna ci serve per lavare questo gagnolino che è tutto tutto bene adesso sciacquiamo sciacquiamo ancora un po a me sembra sempre sporco non era macchie no era nero che era andato a gironzolare tra le macchine si era sporca tutto ci dà anche sporca ovviamente allora qua dobbiamo mettere il poi devi centrare si no ora l'ultimo l'ultimo e via ok adesso ci ha dato niente un altro bullone dovresti si mancano ancora allora scatole da aprire niente forse devi mettere su il gatto dentro la scatola ah devi fare peso no allora dobbiamo mettere la più grande appoggialo a fianco non si può allora mettile tutti sul il pesce il pepino beh niente 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 qua c'è ancora il cane spiderman che si arrampica sui miei metti il gattino sopra prendi il pettinino no il pettinino serve per loro per loro il pettinino non va allora il pettinino per lui neanche il pettinino è per questo cagnolino che deve essere pettinato mamma mia è più che pettinino dovevano essere le forbici ok mettere un po di chiavi che ha un po di chiavi così diamo un po di probabilità al cagnolino di uscire inizi a girare qui c'è un altro osso sulla mensola forse lui aspetta lui lui deve fare qualcos'altro perché non capisco però simboli forse c'è qualche lucchetto che vediamo no no togli il gatto mettilo nell'arancione il gatto dentro metti il gatto dentro mettiamo prima le altre il gatto fuori fatto e ci ha dato un'altra chiave non si era tolto tutto ho pensato che non ce la dava ok ok vabbè andiamo avanti un lucchetto rosa uno verde e uno a strisce Ah, quante cose? Allora, quanti gatti? Due Due Tre Tre gatti Tre gatti e quattro ossa Le zampe Una Una C'è sul divano Sullo specchio Due Tre Quattro Quattro Ok, questo è anche andato Altre due Il topino andava messo in questa ruota Al quale Sai che qui dobbiamo indicare Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Ok, questo è andato Dobbiamo mettere in ordine i numeri romani Quindi Allora, sono un sacco di Questa è una nota musicale Poi Le ossa Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta Noi dobbiamo prendere le ossa Però il problema è che non ce le fa prendere Mi sa che questo topino Deve essere il pranzo No Povero No Non è il pranzo del gattino No, assolutamente no Non ce ne frega proprio il gattino Del topo Sì E la chiave del topino che ballava Qua sopra Adesso ci manca sempre una chiave verde E un codice E un codice E un codice Non troveremo mai un codice I cagnolini Come abbiamo fatto Dovevano guardare in un modo specifico E quindi Noi li dovevamo toccare in un modo specifico In base a un ordine Solo che non avevamo capito Vabbè Siamo stati molto fortunati A farci dare questa chiave Ma ci rimane sempre Un codice Un codice Dove possiamo cercarlo Vediamo un po' Abbiamo preso anche i codici Adesso Facciamo Il cane è libero Il cane è libero Evviva Il cucciolo è libero Com'è carino E' una lingua morbidissima Lo lecca tutto Abbiamo fatto 100 minuti di moni Scrivetevi Beh ragazzi Se vi è piaciuto questo video Lasciate un like Attivate la campanellina Iscrivetevi E ciao